La maggioranza dei due terzi c'è. Le elezioni per il rinnovo della Camera Alta hanno rafforzato i liberal democratici del premier Shinzo Abe, che insieme agli alleati centristi di Kemeito occupano ora 70 dei 121 seggi da rinnovare. Un netto passo avanti rispetto ai 59 avuti finora. Abe ha dunque le carte in regola per procedere alle riforme promesse. Prima fra tutte quella della Costituzione, in particolare dell'articolo 9, che caratterizza la natura pacifista della carta fondamentale nipponica. Un passo guardato con sospetto dalla Cina, ma da tempo nell'agenda dei liberal democratici, che intendono liberarsi di un'eredità della storia che considerano umiliante per il paese. L'articolo 9 venne imposto nel 1947 dagli Stati Uniti dopo la resa del Giappone, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Abe ha inoltre annunciato che il governo varierà a breve un nuovo pacchetto di stimoli per l'economia, che comprende investimenti nelle infrastrutture ferroviarie e portuali.